Ciao a tutti e bentornati sul canale! In questo video tutorial ho realizzato alcune idee per degli snack adatti ad Halloween. Per realizzare la prima ricetta occorre del cioccolato fondente e delle galette di riso di mais o quello che più preferite, va bene anche del riso soffiato. Ho fatto fondere il cioccolato fondente a bagnomaria. Dispongo sul piano di lavoro un foglio di carta da forno e intingo le mie gallette di riso all'interno del cioccolato fondente, facendo in modo che non rimanga alcuno spazio bianco. Procedo così fino a terminare tutte le gallette di riso. Prendendo spunto da una ricetta che ho preparato il giorno di San Valentino, ho realizzato anche delle bacchette di strega, bacchette magiche. Non sono altro che dei pretzel, quelli lunghi, a bastoncino, salati e li ho intinti nella cioccolata fondente, però soltanto per metà. Per il procedimento vi lascio su nelle schede informative il procedimento della ricetta dei pretzel per San Valentino. Per la realizzazione della seconda idea, che è un'idea decorativa, l'ingrediente è pasta di zucchero nera per modellaggio. Scaldo un po' tra le mani la pasta di zucchero nera, le do quindi la forma di un cappello da strega, così come vedete in video. Lasciano da parte solo dei pezzettini di pasta di zucchero che mi serviranno per creare il borto del cappello della strega. Grazie a tutti. 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 Quelli che sono su in superficie sono appunto delle piccole zucchette. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente. E per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto. Non mi resta che augurarvi buon Halloween. Non mi resta che augurarvi buon Halloween.